Benvenuti ai nostri cari follower. Quindi, finalmente, una lieta notizia per tutti gli italiani. Ma prima di entrare nei dettagli, non dimenticate prima di sostenerci con ammirazione per questo video e di iscrivervi al canale. Grazie, se le piogge tornano prepotentemente in Italia, a partire da venerdì 4 agosto 2023. Questo in particolare nelle regioni settentrionali e centrali d'Italia. Poi, a partire da sabato, piogge, temporali e maltempo raggiungeranno le regioni meridionali d'Italia. Quindi venerdì 4 agosto. Temporali e pioggia molto forte entrambi. Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trento, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio e parti separate della Sardegna. Sabato, poi, la pioggia raggiungerà Molise, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia. Ricordiamo ancora una volta che i temporali saranno attivi in periodi intermittenti di stabilità e anche improvvisamente. Inizierà nell'estremo nord, poi si unirà gradualmente al centro e poi al sud. Contemporali molto forti e rischio allagamenti e grosse grandinate. Eventi molto forti e tempo cattivo e pericoloso. Quindi stai sempre attento. Stiamo seguendo eventuali altri sviluppi importanti di cui vi informeremo in seguito. Finalmente sei in buona salute.